Salve a tutti e benvenuti nel canale di pensioni e aggiornamenti. Ormai mancano poco più di due settimane al maxi assegno pensionistico di luglio. Vediamo insieme quanto potrebbe aspettare i pensionati il prossimo mese. Prima di visionare il video, come sempre vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente è tutto gratuito. Come sappiamo pensionati e pensionate a luglio riceveranno grazie al decreto aiuti il bonus da 200 euro. Questo per contrastare il caro prezzi. Inoltre a luglio arriverà anche la quattordicesima per chi ovviamente ne ha diritto che in tal caso andrà a sommarsi al bonus 200 euro più la relativa pensione. Dunque vi sarà un maxi assegno. Il tutto sarà visibile dettagliatamente sul cedolino che è sicuramente in arrivo nei prossimi giorni dove si potrà consultare l'importo esatto della pensione, l'eventuale quattordicesima e l'importo del bonus che sarà di 200 euro per tutti a patto che non si superi il tetto dei 35.000 euro annui di reddito. Dunque nell'ipotesi migliore ovvero che un pensionato riceva la quattordicesima in misura massima quindi di 655 euro, tal importo andrà a sommarsi ai 200 euro del bonus del decreto aiuti se non si è superato nell'anno precedente il tetto dei 35.000 euro. Dunque solo tra quattordicesima e bonus un pensionato potrà arrivare ad ottenere 855 euro in più a luglio. Bene e anche per oggi è tutto se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione al prossimo video e un saluto a tutti.